L'abbiamo pensata a lungo, voluta tanto e finalmente è arrivata. Quindi benvenuti e siamo contenti di poter riniziare da qua e da questa serata. I passaggi. Quando l'abbiamo ricostituito ci siamo detti, richiamiamoci a un obiettivo, che cosa vuole il forum. Il forum in questo momento non si pone come ente di coordinamento, ce ne sono molti, ente di rappresentanza ce ne sono anche di quelli. Il forum in questo momento pensa e vuole essere un luogo di sostegno al terzo settore e sostenerlo vuol dire far girare idee, dare voce, aumentare la riconoscibilità e la visibilità. Abbiamo voluto interpretarlo in questo modo e quindi la serata di oggi, interpreta un po' tutti questi obiettivi, rappresenta il nostro punto di vista e ci aiuterà a riflettere. Lo rappresenta, lo rappresenterà anche in modo autorevole nel confronto con Bobba se trova la strada tra Monte Olimpino e qui. Lo rappresenta con la concretezza di un rapporto che la Camera di Commercio insieme all'Associazione del Volontariato Comasco e la Conf Cooperativi ha curato con molta attenzione raccogliendo i dati del censimento del no profit sull'Istat. Ci hanno lavorato a lungo e lo presenta oggi in anteprima in maniera piuttosto dettagliata. Nella cartellina trovate il rapporto della sua versione integrale, il rapporto su un no profit in provincia di Combo. Un dossier di Guelfar oggi sulla riforma del terzo settore, la posizione del foro del terzo settore. Prima di iniziare facciamo fare i saluti con Mauro nella sua veste di portone di casa e poi Caterina per i dati.